buongiorno a tutti grazie per l'invito oggi parleremo di uno dei dieci oggetti contenuti nel mio libro che si intitola Dieci splendidi oggetti morti e parleremo delle mappe è un oggetto importante uno degli oggetti più importanti di tutto il libro nella così piccola scala personale che ha caratterizzato la nascita di questo libro prima di cominciare a parlare delle mappe vorrei dire due cose sul titolo del libro perché è un tema ricorrente tanto vale insomma risolvere una volta per tutte in realtà questi dieci oggetti splendidi e morti non sono tutti oggetti uno di questi in particolare che è un oggetto di cui parleremo in uno dei prossimi incontri e il silenzio certamente non è un oggetto credo non ci siano grandi dubbi al riguardo nemmeno il cielo forse è esattamente quello che noi intendiamo un oggetto però insomma ecco non tutti i dieci questi oggetti sono oggetti ma soprattutto non tutti i dieci gli oggetti sono morti quindi insomma da un certo punto di vista volendo essere molto rigorosi potrebbe sembrare un titolo piuttosto disastroso ecco perché molti degli oggetti di cui stiamo parlando sono semplicemente oggetti che le mappe stesse di cui parleremo oggi si sono trasformati nel tempo e quindi sono da un certo punto di vista rimasti altri sono fisicamente cambiati in una maniera molto forte le mappe per esempio anche uno di questi altri sono oggetti che sono diventati desueti cioè sono ancora esistenti ma non li utilizziamo più molto un classico delle domande è beh ma certo i dischi in vinile io li ascolto ancora certo il disco in vinile esiste ed è tuttora in vendita e ha un suo mercato una sua dignità anzi è una cosa probabilmente molto chic però di fatto il mercato è insomma il punto di riferimento che noi utilizziamo i dischi in vinile sono precipitati nel giro di 10 15 anni moltissimo ma al di là di questa discussione era per dire che questo titolo va preso nella sua interezza e nella sua grossolanità nel senso che esattamente come mi era capitato nel libro precedente che si chiamava bassa risoluzione il tentativo è di prendere una lista di oggetti e cercare di osservare il mondo attraverso di loro è una specie di filtro da applicare alla realtà per capire in una maniera diversa dal solito come come siamo dove stiamo andando come siamo fatti quanto siamo diversi da quando da qualche anno fa in bassa risoluzione il tema di fondo era quello del fatto che c'era una diffusa c'è una diffusa percezione di perdita di valore nel momento in cui la tecnologia incide molto sulle nostre vite tutto ci sembrava meno bello di prima e lì il filtro era quindi utilizzare gli strumenti tecnologici che usiamo ogni giorno per cercare di capire se davvero c'era questa riduzione di valore se invece, e questa era un po' la tesi, questo valore non ricomparisse da un'altra parte magari in una direzione che in quel momento non avevamo considerato in dieci spiegati oggetti morti succede una cosa simile cioè attraverso questi oggetti cerchiamo di capire come siamo fatti e quindi insomma il fatto che siano morti significa semplicemente che si sono modificati in una maniera talvolta molto importante e questo insomma per chiarire il titolo e chiudo la parentesi e vorrei, vi dicevo che le mappe sono forse l'oggetto originario da cui è nato questo libro e come tutti i libri insomma credo c'è una quota personale molto forte e la quota personale più importante è quella che io dei pochissimi ricordi che ho di quando ero un bambino ricordavo perfettamente le mappe, le carte stradali che mio padre aveva in auto non ricordo quasi niente della mia infanzia però queste carte me le ricordo e sospetto che il motivo per cui io me le ricordo è che mio padre faceva una grande fatica a ripiegarle erano mappe complicate che da noi bambini largamente percepite come oggetti molto preziosi forse proprio perché erano difficili da ripiegare ma erano diciamo un punto abbastanza importante delle nostre vacanze estive che puntualmente si svolgevano in genere sulle dolomiti e questo ricordo di mio padre e di queste mappe e del fatto che a forza di utilizzarle ripiegandole si consumavano i bordi e questa è una cosa che mi è rimasta insomma e credo che molto di questo libro sia partito da lì una specie di cosa leggermente prustiana queste carte che esistono ancora anche se sono molto poco utilizzate sono da me così magari ingenuamente state connesse a una cosa molto più recente una cosa di alcuni anni fa perché a un certo punto nel capitolo non se ne parla molto però è un punto abbastanza centrale a un certo punto google credo nel 2012 sono andato a controllare perché non ricordavo bene produsse un bellissimo video di quelli propagandistico motivazionali chiamiamoli così insomma nel quale immaginava e ci spiegava un progetto che stava costruendo questo progetto era il famoso progetto degli occhiali di google forse qualcuno se lo ricorderà il video è ancora presente ed è su youtube si trova molto facilmente ed è un video bellissimo come sono bellissimi in genere tutti i video che riguardano i tentativi di convincere le persone del fatto che domani ci sarà una cosa meravigliosa io ti mostro già questo oggetto anche se questo oggetto ancora di fatto non esiste io credo che non ci sia nulla di più chiaramente morto degli occhiali di google nel senso che è un progetto che si è sviluppato per alcuni anni e poi improvvisamente è stato chiuso per una manifesta difficoltà tecnologica a portarlo avanti ma quel progetto aveva e soprattutto quel video aveva una parte che nel mio capitolo sulle mappe è piuttosto importante ed è la parte che riguarda è un video brevissimo si fa presto a vederlo però sostanzialmente il protagonista si alza la mattina indossa i suoi occhiali e con essi esce di casa e comincia a fare cose una specie di mashup straordinario fra quello che noi facevamo prima e cioè stavamo connessi a internet trovavamo le informazioni su un computer oppure più avanti del tempo sullo schermo di un cellulare e la possibilità di essere contemporaneamente a contatto con quella che una volta si chiamava la vita reale cioè io nello schermo piccolissimo degli occhiali ricevo le informazioni nel momento stesso in cui sto camminando nel parco due attività che fino a poco prima erano abbastanza antitetiche diventano possibili assieme questo è il grande fascino di quel progetto e di tutti i progetti simili però ecco in questo video succedeva una cosa cioè a un certo punto il protagonista è il ragazzo che riceve sul cellulare e quindi direttamente sullo schermo degli occhiali le notifiche, le mail attiva le mappe di Google ovviamente essendo un progetto di Google e si dirige, la metropolitana è chiusa, fa tutta una serie di giri tra l'altro il video è ambientato nel village a New York quindi un posto anche esotico per definizione comunque insomma il punto non è tanto che utilizza degli strumenti che già conosciamo osservandoli nelle lenti degli occhiali ma è che a un certo punto quando arriva nella libreria dove deve andare ad acquistare un libro lui è dotato per via di questo strumento tecnologico di informazioni supplementari la mappa non lo accompagna più solo fino alla porta della libreria nella quale sta andando a comprare un libro ma lo accompagna anche dentro ecco questo è un aspetto che forse è un aspetto marginale ma in realtà è un aspetto che a me colpì moltissimo lui prosegue questa unione fra l'uomo e la macchina permane anche all'interno della libreria e gli occhiali gli indicano il percorso per arrivare davanti allo scaffale nel quale c'è il libro che lo interessa ecco questo è una specie di processo di ulteriore raffinamento e di ulteriore precisione della nostra capacità di essere condotti quindi insomma la funzione basilare delle mappe che diventa straordinariamente affascinante addirittura io potrei per dire con occhiali di questo tipo entrare in una libreria o in un ristorante senza avere bisogno di andare al punto informativo a chiedere dove sta la sezione filosofia oppure dove sono i bagni per capirci no, quello che succede è che io so già tutto perché la mappa sa già tutto e mi dice tutto una specie di percorso, un'accelerazione la carta Michelin di mio padre mi portava fino al cartello di Moena Val di Fassa perché fino lì c'erano le informazioni che mi consentivano di arrivarci poi l'albergo magari lo dovevo trovare da solo le mappe delle nostre automobili i GPS che utilizziamo e che continuiamo a utilizzare anche adesso ci portano più o meno precisamente fino all'indirizzo del luogo in cui dobbiamo andare gli occhiali di Google ci portavano dentro dentro la realtà delle cose che dovevamo fare e questa differenza che sembra una differenza piccola ma è una differenza gigantesca è uno dei punti fondamentali di questo capitolo cioè il fatto che c'è una specie di percorso e questo percorso raffina sempre di più la nostra capacità di essere informati come è una delle grandi promesse della tecnologia è una promessa devo dire molto spesso disattesa e quindi questo è il secondo punto le carte di mio padre gli occhiali di Google che mi portavano davanti allo scaffale dove c'era il libro che mi interessava e poi anche qui un piccolissimo tratto personale mettendo assieme queste cose mi è venuto in mente il lavoro di un amico di mia moglie che si occupa è uno storico del Medioevo che lavora a Londra che si chiama Alessandro Scafi che si occupa da moltissimi anni di cartografia in particolare della cartografia medievale soprattutto della cartografia del paradiso terrestre se non il più grande esperto al mondo però insomma e mi è venuto in mente di avere letto un libro di Alessandro che è uscito c'era anche una versione estremamente lussuosa pubblicata qualche anno fa in italiano da Bruno Mondatori che è un libro bellissimo forse anche troppo colto per me detto sinceramente ma un libro nel quale si spiega una cosa che è molto semplice che è questa e che è collegata con quello che vi dicevo poco fa Alessandro scrive che a un certo punto verso fra il 1400 e il 1500 le mappe cambiano le mappe medievali che sono le cosiddette mappe mundi che erano degli oggetti straordinariamente culturali nel senso che in realtà non servivano tanto per orientarsi anzi forse quasi per nulla erano poi oggetti come capitava in quei tempi disponibili solo ad alcune categorie di persone però insomma nelle mappe mundi c'era un po' di tutto c'era questo disegno del mondo e c'era ed era compreso spesso il paradiso terrestre il paradiso terrestre era molto spesso nella parte alta della mappa ed era tipicamente un posto difficile da raggiungere non era semplice nella carta geografica del medioevo arrivare al paradiso terrestre però insomma c'era una qualche rassicurazione sul fatto che c'era questo luogo esisteva a un certo punto il paradiso terrestre scompare dalle mappe scrive Scafi e questo succede per una ragione semplice che viene improvvisamente adottata la geometria di Ptolomeo cioè che era un matematico nel secondo secolo quindi di moltissimo tempo prima ma insomma in pratica nasce la cartografia moderna e quindi ogni punto della mappa ha due coordinate una riga verticale e un'orizzontale che la identifica che è un po' insomma il principio che guida gli attuali GPS che utilizziamo quando nasce la cartografia diciamo esatta basata sulla scienza improvvisamente una quota di quello che è contenuto delle mappe non ha più titolo di esistere perché non è molto complicato scrivere le coordinate del paradiso terrestre e quindi insomma questo percorso verso la precisione è un percorso che in realtà parte molto prima sia delle carte di mio padre sia degli occhiali di Google e questa cosa io trovo che abbia una relazione abbastanza stretta con le cose che dicevo poco fa a un certo punto la carta non è più un oggetto veramente culturale nel quale possiamo inserire una serie di principi che ci interessano ma diventa un manufatto tecnologico in ogni senso stretto e quindi questa cosa secondo me si scriveva ed è citata infatti nel capitolo in maniera abbastanza precisa in questa specie di racconto di come le mappe si sono modificate si sono modificate in molti periodi differenti ma sempre verso una logica di una raffinazione delle informazioni che contengono e sulla praticità delle informazioni che contengono e quindi insomma questo questo di di scafi secondo me era un punto importante perché c'è un concetto di fondo che a questo punto nasce e diventa sempre più evidente e il concetto di fondo è che la nostra capacità di perdersi geograficamente parlando ma anche non solo tende lentamente a diluirsi e a perdersi sempre di più a scomparire sempre di più e questo crea delle conseguenze oggi noi abbiamo moltissime informazioni oltre al fatto che abbiamo degli strumenti come le mappe per poterci orientare ed arrivare fino allo scaffale del libro che ci interessa e queste informazioni sono parte integrante della nostra capacità di vedere le cose osservarle capirle e questo è qualcosa di molto importante da un certo punto di vista ma è anche un limite perché è nell'esperienza di tutti il fatto che il viaggio l'orientamento sono attività potentemente personali molto spesso correlate a come siamo fatti e allora abbiamo risolto questa questione semplicemente raggranellando informazioni da fonti che ci sembrano importanti quindi prima di fare un viaggio prima di andare in una città prendiamo partiamo navighiamo in rete prima ancora di partire fisicamente e raccogliamo le informazioni su luoghi che ci interessano i ristoranti in cui magari ci piacerebbe andare ora mi rendo conto che in questo momento non è un discorso totalmente attuale però di fatto abbiamo fatto così per molto tempo negli ultimi anni e spero lo faremo ancora in futuro però ecco quello che succede è che questa specie di carta geografica delle cose che ci interessano rimane comunque in qualche maniera come dire imperfetta lo è proprio per definizione a tutti sarà capitato di viaggiare con le proprie mappe con le proprie informazioni seguendo siti web dei quali ci fidiamo e poi improvvisamente durante questa peregrinazione più o meno precisa su dati che abbiamo già da prima ci sarà capitato di prendere un vicolo girare in una strada laterale e trovare una cosa che non era prevista che non è scritta da nessuna parte e che ci ha colpito e che magari è il momento centrale di quel viaggio o lo sarà nei nostri prossimi ricordi ecco questa specie di indeterminatezza che una volta era una condizione tecnologica nel senso che la tecnologia non era in grado di evitarla oggi viene evitata sempre di più e il punto fondamentale del capitolo delle mappe è che forse questo non è comunque e sempre esclusivamente un valore a me per raccontare un fatto personale del quale probabilmente anzi sicuramente mi vergogno io credo di avere visto a Venezia la scala Contarini che mi hanno fatto notevolissimo per sbaglio un giorno camminando girando in una calle vedendo questo questo monumento dicendo accidenti cos'è questo ecco può succedere succede continuamente e molto spesso questo si trasforma in un valore quindi vi dicevo le mappe di mio padre e poi gli occhiali di Google che mi portano davanti allo scaffale che mi interessa e poi le mappe medievali di Alessandro Scafi e c'è un ultimo punto che secondo me ci aiuta a tirare le fila di questo breve ragionamento sulle mappe su cosa sono su come sono fatte e come parlano di noi ed è un collegamento che nel capitolo non è citato ma che esiste e che comunque viene citato in un'altra parte del libro che è la parte sulla macchina fotografica nel capitolo sulla macchina fotografica in gran parte per la verità si parla di un grandissimo fotografo che si chiama Luigi Ghirri Luigi Ghirri che è morto giovane e che ha scritto molto ma che ha soprattutto fotografato moltissimo aveva un'idea della fotografia che ha molte correlazioni con le cose che vi ho appena detto sulla capacità di perdersi usando le mappe e la sua idea di fotografia era sostanzialmente che la fotografia fosse un frammento non è stato lui insomma era già abbastanza stata superata l'idea di inizio novecento e molto comunque novecentesca per cui la fotografia era finalmente la nostra capacità di descrivere e raccontare la realtà c'è stato un periodo piuttosto lungo nel quale si immaginava che la fotografia fosse l'istantanea della verità di quello che stava succedendo in un certo luogo in un certo istante si è capito che non era così non lo era in una maniera straordinariamente clamorosa ma in generale l'idea di indeterminatezza della fotografia che ha sostenuto Ghiri per molto tempo è di fatto un'idea poetica un'idea culturale ma somiglia molto al prendere il paradiso terrestre e metterlo nella parte alta di una mappa medievale e quindi Ghiri diceva che insomma di non farsi troppe illusioni che la fotografia è prevalentemente un frammento e che tutto quello che può fare è aggiungere un piccolo frammento e c'è anche una tendenza culturale a cercare di sminuire questa precisione Ghiri per esempio lo faceva sfocando molto i bordi delle foto ma soprattutto il motivo per cui cito questo fotografo è il motivo per cui vedo una grande correlazione fra la sua idea di fotografia e le mappe è che noi con gli strumenti tecnologici che utilizziamo abbiamo molte possibilità possiamo innamorarci di loro possiamo caricarli di una serie di aspettative nelle mappe succedenti e queste aspettative sono molto spesso assolutamente giustificate ma bisogna anche cercare di allargare un po' lo sguardo e capire che esiste anche altro accanto a questo ecco Ghiri lo diceva benissimo a me dispiace che non c'è nulla di scritto a parte sua nei suoi testi di fotografia viene citato in un bellissimo documentario che potete trovare su YouTube però insomma lui a un certo punto lo sono scritto qui è scritto anche in Dieci splendidi oggetti morti lui dà questa definizione della fotografia che vi leggo per chiudere questo e dice la fotografia è solo un'immagine vaga del mondo come l'ombra di una macchina che passa e si proietta sul muro ecco questa specie di idea di indeterminatezza questa immagine poetica della nostra capacità di riconoscere il mondo è credo la maniera più innovativa che abbiamo di immaginare anche il nostro rapporto con le mappe di questo tutto sommato parla questo capitolo grazie mille grazie a tutti